Am vedi che roba oh, porca miseria l'altro giorno era una serpara, guarda qua che hanno fatto, hanno pulito tutto, e tocchi il telefono subito a Mastro Santi, e se basta, se basta veni qua, pronto, hai roba, oh, è anche da venire più spesso da queste parti, guarda che roba, guarda che hanno fatto, roba, hanno tagliato tutta l'erba, ti ricordi l'altro giorno era una serpare, guarda qua che roba, guarda che roba che hanno fatto, eh, e beh, tocca che si mettiamo d'accordo, andiamo un po' in giro per i frescati, quando c'è stato qualche problema, lo segnaliamo, vedi che roba, ma proprio un successo strepitoso è stato, ma dimmi tu, vabbè, te saluto che è l'ora della preghiera lì all'arbero sbardello, eh, domani, te saluto, va, state bene.